Dai dati Istat sulle dinamiche dell'export è emerso che l'Italia nel primo trimestre 2011 ha fatto registrare un incremento del 18,4% rispetto al periodo precedente. La crescita dell'Abruzzo è stata del 21,2%. Un ulteriore elemento, secondo il vicepresidente della regione con delega allo sviluppo economico Alfredo Castiglione, che eventi di ripresa cominciano a soffiare anche in Abruzzo. Anche la produzione e il fatturato in altri settori iniziano a diventare interessanti. Questo significa che la regione deve accelerare e avere maggior coraggio nel portare a termine alcune riforme che la metteranno in condizione di poter agganciare più velocemente quella ripresa che io mi auguro stia dietro l'angolo. Non potendo disporre di risorse endogene, ottimizzare le risorse che avvengono dalla comunità europea significa che bisogna accelerare assolutamente entro luglio, e qui lo dico davanti a una televisione autorevole come la vostra, che bisogna assolutamente approvare la riforma dei consorsi industriali entro la metà di luglio, perché oramai il processo verso i poli di innovazione e le reti di imprese stanno incominciando ad essere metabolizzati dal nostro sistema produttivo e industriale. Anche per i poli di innovazione e i contratti di rete ormai i ritardi accumulati sembrano dietro le spalle. C'è stato un momento di fermo, anche perché era la prima volta che la Commissione si incimentava all'esaminare importanti progetti come quello dei poli di innovazione, ne sono stati approvati otto. Posso sicuramente dire che verrà aperto un ulteriore bando per recuperare altri due poli che vanno ad arricchire quelli già inseriti. E entro la fine, prima delle ferie o alla ripresa in autunno, uscirà il bando per i contratti di rete. Ecco, i contratti di rete e i poli di innovazione saranno il futuro della nostra regione. Però bisogna superare quel concetto, così come ho detto prima, della suddivisione al territorio, a compartimenti stanchi della nostra regione, che ha portato ad una superfetazione, e parliamo di consorzio industriale, che oramai sono pieni di zavori, di compromessi, di cui l'Abruzzo non sa che farsene in questo momento. Grazie. 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 Grazie.